La mia nazionale punterà ancora sui senatori. 5 agosto 2009, Marcello Lippi conferma le sue intenzioni nel corso di una conferenza stampa nella quale ribadisce nuovamente il progetto tecnico in vista dei mondiali del 2010. La deludente esperienza in Confederation's Cup non modifica le idee del Citi Azzurro. Sono convinto che se abbiamo una possibilità su un miliardo di rivincere il mondiale non ce la procuriamo abbandonando giocatori di esperienza. Chiaro il concetto espresso da Lippi che non vuole assolutamente rinunciare a chi lo ha portato sul tetto del mondo appena tre anni prima in Germania. In Sudafrica dunque ci sarà ancora spazio per i suoi fedelissimi, pur senza rinunciare alle nuove leve. Io sto attuando il rinnovamento, prosegue poi il tecnico viareggino, tenendo presenti gli straordinari calciatori che hanno vinto il mondiale. Grazie a tutti!